Con questo tutorial vediamo come compilare il modello F, la richiesta dunque di rinuncia alle supplenze a tempo determinato e dunque entrare nel gradatore 24 mesi solo per lo scorrimento delle nomine a tempo indeterminato e il modello H per attribuzione della priorità. Il modello F è semplicissimo, e chiaramente non è obbligatorio compilarlo, ma qualora l'aspirante non voglia essere nominato per le supplenze basta che faccia azione disponibile, inserisci e va a dire che come collaboratore scolastico l'aspirante chiede di non avere titolo a permanere oppure inserire o aggiornare la gradatoria permanente di questa provincia dichiara di non essere interessato all'attribuzione dei rapporti al lavoro a tempo determinato in base allo scorrimento della predetta gradatoria per l'anno scolastico 24-25. Si fa inserisci e dunque questo viene inserito al sistema. Chiaramente si può anche cancellare perché se ci si pente di aver compilato questo modello basta andare su azioni disponibili, fare elimina e dunque eliminare il modello F. E dunque con successo è stato aggiornato il fatto che è stato eliminato il modello F. Invece il modello H è per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede. E allora abbiamo chi può compilare il modello H. Può compilare l'aspirante disabile di cui è l'articolo 21 della legge 104, cioè che abbia almeno i due terzi di invalidità civile e l'articolo 21 della legge 104 anche se non ha lo stato di gravità, dunque l'articolo 3,1 della legge 104. Oppure in stato di gravità la disabilità, articolo 33,6, questo è uno stato di gravità. Ma stiamo parlando in questo riquadro, per esempio facendo così, della disabilità personale. Chiaramente oltre la disabilità personale che può essere o questa oppure questa, dunque una delle due chiaramente, o per la verità anche entrambe se si vuole, però una delle due è sulla disabilità personale. Poi c'è per l'assistenza al figlio, cioè un padre o una madre che vogliono diciamo una priorità per l'assistenza al figlio, devono inserire il nome, il cognome del figlio, la data di nascita del figlio, il luogo di nascita del figlio, la residenza dei figli e dire che l'aspirante dichiara che il proprio figlio è il disabile in una situazione di gravità, ma non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura. Che necessita dunque di assistenza continuativa e che il sottoscritto fruisce dei permessi di cui è l'articolo 33,3 della legge 104. Stessa cosa è per assistere un fratello o una sorella, dove chiaramente i genitori non se ne possono prendere cura, o un coniuge o la parte dell'unione civile convivente di fatto. E così si possono assistere anche i parenti e avere il diritto alla priorità. Chiaramente qua in fondo si scelgono i file per i verbali delle commissioni mediche che attestano la situazione di disabilità. E poi si fa inserisci. Speriamo che questo tutorial per la compilazione del modello H e per la compilazione del modello F sia utile ai nostri telespettatori per una corretta compilazione della domanda. Arrivederci.